Siamo in un paio di settimane che abbiamo la fortuna di lavorare tutti assieme, veramente bene. I just ask to raise a map available for a world for whatever reason. Katakistan purtroppo per noi credo che sia una delle squadre più in evoluzione del momento, è una squadra che comunque ha fatto due ottime partite. La vita di animata veramente è tutto di... non è una mutare a caso, è perché il gioco un po' ma lo proveremo a fare il nostro meglio, ecco. Sicuramente è una bella partita quella, quindi sia alla fine del Stato 5. Quindi non avremo il supporto magari dei nostri tipo. Noi andiamo sempre in campo. Siamo assalamualaikum, ho chiamato il nostro corso. Siamo assalamualaikum, ho chiamato il nostro corso. Siamo assalamualaikum. Siamo assalamualaikum. Siamo assalamualaikum. Siamo assalamualaikum. Grazie. 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 Grazie.